Nell'estate terribile degli incendi in Toscana, il bilancio tocca ormai 1.600 ettari di bosco inceneriti in 472 roghi divampati in due mesi e che hanno tenuto impegnata giorno e notte la macchina regionale dei soccorsi coordinata dalla sala operativa unificata permanente. 600 mezzi terrestri, 10 elicotteri e 4.800 uomini addestrati, tra i roghi più violenti quelli di Pian Castagnaio, Montale e Radicondoli. La regione ha annunciato per il 1 ottobre la consegna di un premio a chi si è speso per domare i roghi e intanto si pensa a nuovi provvedimenti legislativi. Noi ci vogliamo anche dal punto di vista legislativo attrezzare meglio e trovare il modo perché ci sia una risposta più efficace in termini di prevenzione e ovviamente anche in termini di intervento successivo. Si può ancora migliorare partendo da una ottima base. A Monticiano noi abbiamo una scuola di formazione, lì da diversi anni, pensata dai miei predecessori ed è ormai un punto di riferimento di carattere nazionale ma anche addirittura europeo. A infiammare la torre d'estate toscana sono state anche le polemiche sollevate dai commenti che hanno strizzato l'occhio a fascismo e razzismo sul web nel dibattito pubblico e contro cui la regione ha annunciato una stretta con il monitoraggio giornaliero di web, stampa e tv affidato all'agenzia Toscana Notizie e più sensibilizzazione a partire dai giovani nelle scuole. E quindi il nostro impegno si intensificherà, si intensificherà anche insieme a sindaci nella celebrazione delle stragi e delle cidi che abbiamo avuto in Toscana. Una scia di sangue percorre la Toscana. Ci sono molti episodi dove i nazifascisti hanno ucciso vittime spesso innocenti. Distribuiremo la costituzione antifascista e antirazzista a tutti i ragazzi della Toscana. Il presidente si è poi rivolto a sindaci, prefetti e questori affinché le violazioni delle leggi e della Costituzione siano sanzionate.